Ciao da Paolo Milanesi, ti voglio parlare del fiore Mimulus, il Mimolo giallo. Questo è il fiore della paura, quindi che può aiutare le persone che hanno paura di cose note però, cose concrete. Avevamo visto Aspen, che era un fiore che era più adatto per le paure di tipo dell'ignoto, quindi i fantasmi, il buio, o cose, dei presagi, che magari non si avvereranno. Mimulus invece è il fiore che aiuta a superare e ad affrontare le paure di origine note, quindi la paura del dolore, degli incidenti, della povertà, della solitudine, della sfortuna. Quindi Mimulus è un fiore importante perché aiuta a riprendere il contatto con il proprio coraggio. Mimulus è il fiore del coraggio. Quindi decido di camminare nella luce e affronto coraggiosamente le situazioni che mi si presentano, perché posso confidare nel mio io superiore. Abbiamo visto che la filosofia alla base dei fiori di Bach e quindi la filosofia di Edvard Bach è proprio una filosofia che parla di un tutto. Cioè noi viviamo come parte di un tutto, di un'energia universale, che è comunque amore, che ha uno scopo ben più ampio di quello che magari noi riconosciamo con la nostra visione limitata. Con Mimulus noi possiamo affrontare le situazioni con più coraggio. Mi sento più forte interiormente all'altezza delle situazioni. Mimulus è il fiore del coraggio.